Buongiorno amici e buon inizio settimana. Per noi oggi è un po' diverso, nel senso che abbandoneremo per qualche ora la nostra taigherona, ma solo per qualche ora perché è amore tanto, per andare a vedere le balene. Mi sto emozionando solo per dire. Spero a fare la giallo, una barca veloce. Speriamo di vederle, natura è natura. Balene, orche e delfini che in questo periodo dovrebbero essere alla portata della nostra gita. Speriamo. E poi nel pomeriggio vulcano attivo, vulcano attivo con lava. Questo non l'abbiamo ancora visto. Dovremmo fare in tempo, vediamo. Comunque l'importante è quello. Siamo un po' emozionati. Già adesso figuriamoci dopo. Buon inizio settimana a tutti. Ciao ciao. A presto da Una Coppia in Moto. Sempre in Moto. Gas gas gas. Sempre in Moto.